Io, sottoscritto Ernest Wood, nella piena padronanza delle mie facoltà mentali, nomino quale mio erede universale mio nipote Dave Vincent. Il mio patrimonio consiste nella residenza di Villa Mandragora, luogo dove ho scelto di ritirarmi negli ultimi vent'anni della mia esistenza. Mio zio come morto. Il signor Wood è stato ritrovato in soffitta e il suo cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Dave, resta una sola cosa da fare, andare a Villa Mandragora.